Miei carissimi milanesi, bene ritrovati. Questa sera, beh, devo dire, sono emozionato perché insomma la persona che incontreremo è una di quelle persone che hanno fatto la storia, ma perché c'erano proprio in quel momento lì, cioè nel momento in cui si faceva la storia loro c'erano lì e facevano parte della storia e la storia la scrivevano e la storia anche, la raccontavano perché a volte quelle storie un po' se le inventavano anche e le portavano sui parchi, sui teatri, insomma un personaggio che non potete mancare. Questa sera, subito dopo, la sigla. Miei carissimi milanesi, eccoci qua quindi. Questa sera, e lo avete qui di fianco a me, ho l'onore, e sono molto felice di averlo qui con me in studio, di avere Renato Sarti. Buonasera Sarti. Buonasera a voi. Buonasera al direttore del Teatro della Cooperativa di Milano. Grazie dell'invito. Grazie a lei per aver prima di tutto creato quel teatro, glielo dico da milanese, glielo dico proprio. Grazie, grazie. Renato Sarti, milanese. Sì. Beh, sono ancora molto triestino, parlo in casa del dialetto. Diciamo che la mia parte di Triestino è ancora molto viva in me, anche se ormai sono milanese. E dalla 76? No, in realtà io la prima volta sono venuto a 17 anni, da 69, nel settembre del 69 al 71. Poi per problemi familiari, mio padre stava molto male, sono tornato a Trieste, sono tornato nel 75. E poi sono rimasto qua. Cosa voleva dire nel 69, prima e poi nel 75 dopo, venire a Milano? Beh, voleva fuggire da Trieste, voleva dire scappare via da quello che io ai tempi consideravo una sorta di pesantume miteleuropeo. Ecco, perché la miteleuropea è bella come idea, come ricordo, eccetera. Però poi nel quotidiano si traduce in una, a volte, e non sempre, ci mancherebbe, nell'essere una città di anziani, con tutte le fisime degli anziani, e per di più e per di più in una città che è stata austro-hamburgica, per cui con questo senso dell'ordine, che è giusto l'ordine, ci mancherebbe. Però lì era, e quindi la voglia di scappare da quella città e venire nella metropa. Devo dire però, Sarti, che nella sua immagine, un po' è rimasto, no, di questo miteleuropeo. Sì, beh, i miei sono di origine ungherese, quindi è rimasto proprio nel... Mi brucio subito la domanda che volevo tenermi lì, però lei ha lavorato con i più grandi comici, i più grandi nomi della comicità italiana, e milanese anche, però a vederla lei sembra una persona serissima, tutta ad un pezzo. Dov'è la verità? Cosa si nasconde? No, io amo il comico. Il comico è l'arte più difficile. Il comico, non vorrei fare una lezione, però in parte lo è, è stato, diciamo così, nel 600 la commedia dell'arte, quello che è stato il Rolling Stone e Bob Dylan nel secolo passato. Linguaggi nuovi, gli innamorati vincevano, il pantalone bavoso, tirchio perdeva, e facevano soldi, perché facevano molti soldi, perché i comici, i bergamaschi della compagnia dei Ganassa, nel 600 vanno in Spagna, li comprono un teatro, una casa, e poi, primi documenti, cercano di mettere in carcere, come è successo a Mickey Jagger e a Bob Dylan. E tutto questo patrimonio di comicità, che Benedetto Croce definiva la commedia dell'arte, della nascita del teatro moderno, confluisce poi nei comici che abbiamo avuto nel 900. Vuol dire che non c'è cosa più seria che la comicità. Sì, ma poi, come diceva Ian Nassi, nasce dal tragico. Finisco il capitolo sui comici, non ci torniamo più. Rossellini per fare il film più importante, forse dopo il guerra italiano, Roma è la città aperta, dopo la Magnani e Fabrizio, che erano due attori del spettacolo. Totoli fanno un funerale, tre volte, tre volte, tre funerali, fanno uno addirittura senza il corpo. In realtà il popolo ama vedere le proprie vicissitudini, le proprie tragedie attraverso questi comici, attraverso questi, diciamo così, combattenti pacifici attraverso la battuta per bertugiare, per mettere alla berlina, per prendere in giro i potenti. E quindi il comico... Io ho fatto commedia dell'arte, ho fatto teatro dialettale, ho fatto un po' di cabarello zedig e all'elfo, soprattutto, nell'85 feci parte di quello spettacolo meraviglioso che erano tutti più o meno sconosciuti, che si chiamava Comedians, con la regia di Salvatore, c'erano Paolo Rossi sconosciuto, Antonio Catania, Silvio Orlando, Gigi Alberti, Bevo Storti, Claudio Bisio. Ma infatti lei qualche anno dopo fa parte del più grande film, secondo me, della comicità milanese, che è Kamikazza. Kamikazza, in chiaro, il consiglio di Comedians. Quindi per me è molto importante il comico. E poi parleremo del teatro della cooperativa, che tu hai già nominato. Il quartiere, dopo due anni che eravamo lì, ho capito che erano contenti dell'iniziativa, contenti del teatro aperto, però si aspettavano qualcosa di più sul comico. E da allora, diciamo così, abbiamo fatto sia come produzione che come ospitalità. La prima che venne fu Franca Valeri, non per dire un nome a caso. Con Bevo Storti soprattutto abbiamo fatto spettacoli molto tragici e seri, anche molto divertenti. Bevo Storti è il suo compagno di bevute, credo. Come potete definirvi, lei e Bevo Storti? Perché se siete una strana coppia. Ognuno è il fratello che si merita, diciamo così. No, è un'amicizia che va al di là dell'amicizia. È stato profondissimo. Quanti anni è che ormai hai lavorato insieme? Tanti, però è da un po' di anni che non facciamo più niente insieme, perché lui si è trasferito a una barca masca, lavora più sul cinema, che rende di più le fiction. Però abbiamo incominciato a lavorare. Sa come dicono a Milano? E chiamalo Pirla. Così dicono. E difatti lui lavora molto in questo settore qua, ci ha abbandonato un pochino, però non è detto ancora che non ci ritorneremmo sopra. Bevo Storti, mai morti. Mai morti. Continui la frase. Cos'è stato mai morti? Mai morti è stato spettacolo che mi ha dato più notorietà, anche all'interno di quelli che erano i gruppuscoli di destra. E difatti a Roma sono venuti nel Teatro Vascello. il 22 aprile del 2002. E' vera questa storia? Infatti leggevo... Volevano massacrarci i botte, non ce l'hanno fatta. Ai tempi c'era la Salta Martini, che oggi è parlamentare, che era con un gruppuscoli di questi di azione giovane, la formazione della Meloni, sia ben chiaro. E io andai sulla porta, loro cercarono di sfondare, non ce la fecero. Io chiesi, beh, facciamo così. Dopo c'è un dibattito, intervenite. e la Salta Martini, mi ricordo come adesso, disse al dibattito, vacci tu, S-T-R-O-N-Z-O, per non dire parolacce. Ok. Io quando... Che parla praticamente, per chi non sapesse nulla, parla di un nostalgico del ventennio, che si risvede nella notte milanese del 2000, e pensa che si ritorni i tempi indietro. Spera. È un monologo in cui, appunto, si, vengono rievocati, e c'è questa nostalgia di base di questo ex-cammerata, che non è più quello che è. Io se potessi definire la sua figura, la definirei che lei è affetto da una stata malattia, potrei chiamarla un po' così, che è l'urgenza di raccontare storie. Cioè, lei ha questa malattia, lei deve raccontare storie. Come mai? Da dove nasce questo bisogno? Prima, fuori onda, mi è arrivato, mi è venuto in mente adesso, non dico nulla di cosa, dove ho letto, ho iniziato a prendere un nuovo spettacolo, così, mi è venuto in mente la mia macchina qua. È un po' lunga la storia, cerco di assumerla. Ma guarda, io non ho fretta. Io abitavo a Trieste, praticamente, ma neanche un chilometro dalla risiera di San Saba. Mi tolgo la giacca perché c'è un caldo tremendo. Sì, fa caldo. Ecco, questo tagliate pure, intanto. Ne abitavo praticamente neanche un chilometro dalla risiera di San Saba, che lo dico per chi non lo sapesse, è stato l'unico lager in Italia con forno crematorio, dalle 2.000 ai 5.000 vittime. C'era un forno crematorio. Si parla di nazismo, si parla di sterminio. Io fino ai 16-17 anni non ho saputo nulla. Attenzione, la risiera di San Saba è collocata, ubicata, a poca distanza, a due o tre posti molto frequentati dai triestini. il cimitero dove, dopo il quale, dopo il funerale, si andava nelle trattorie intorno, lo dico perché poi c'è un rimando, e lo stadio. Quindi noi triestini frequentavamo quella zona lì. E non solo, dopo le partite e dopo i funerali si andava nelle trattorie. Una è posta proprio davanti all'ingresso della risiera, 20 metri di distanza neanche, probabilmente, anzi sicuramente, siamo andati qualche volta a bere lì, ma di questo monumento nazionale nessuno mi aveva raccontato mai nulla. 17 anni, scopo 16, 17, perché frequentavo l'istituto d'arte che era una scuola particolare, un po' estroversa, stramba, vengo a sapere questa cosa qui. E questa cosa, questa mancanza dietro le spalle dell'istoria mi ha sempre pesato. Poi, al punto che ho fatto, io mi ero scritto all'università, lettere, indirizzo storico, ai tempi a Trieste c'erano dei professori di storia a livello europeo, Rino Sala, Giovanni Micoli, storia della Chiesa, Enzo Collotti, Galliano Fogar e altri. E niente, ho capito che questa mancanza dietro volevo riempirla e mi è rimasta ancora adesso. Cioè, la storia, proprio perché ce l'hanno negata, io faccio parte di una generazione che sa nulla, poco o niente, del suo recente passato, fino a una certa età, poi mi sono... ma questo non è stato altro che la conseguenza, la conseguenza del passaggio mancato di memoria della mia generazione ma anche quella da dopo. non voglio trovare scuse perché magari non era purtroppo vivo ancora, ricordo, lei dice nel 52, eravamo veramente a decine d'anni, poco... è stata fatta un'opera scientifica di occultamento. C'era la canzone su Auschwitz che andò in ronda se non sbaglio nel vento perché Auschwitz non si poteva nominare. Molti deportati, ex deportati triestini che io ho conosciuto, frequentato, ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna di conoscervi mi dicevano ma che non volevamo parlare, non ne faceva parlare, non volevano che parlassimo del natismo e del fascismo anche perché l'Italia aveva partecipato a una delle pagine più orribili della storia mondiale aveva posto la sua firma e questo non è un vanto ma qualcosa da nascondere. Nella sua vita ha avuto tantissimi maestri forse insomma è anche una bella fortuna devo dire nel posto giusto al momento giusto sempre sarti com'è che funziona? Ma se le dico il maestro chi è per lei il maestro? La combinazione vuole che io non sono conoscendo Streller vado a abitare la prima volta a Milano in via Rovello 19 dove abitava la mamma di Streller in via Rovello quella del piccolo teatro in Milano un segno del destino al momento non facevo ancora teatro lavoravo studiavo come design all'istituto europeo eccetera la prima volta sono venuto a Milano beh il maestro è stato Giorgio Streller ovviamente il primo e forse anche il più importante dopo è seguita però la grande palestra dell'elfo dove i nomi che abbiamo citato prima dei comici e poi bisogna nominare Salvatores Elio De Capitani Ferdinando Bruni quelli che sono stati la palestra dell'elfo faccio solo un esempio quando sono arrivato io all'elfo c'erano 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 dei musicisti che collaboravano nei loro spettacoli la premiata fonderia Mauro Pagani Moni Folk International che era il gruppo di Moni Ovadia cioè la prima volta che ho visto Elio Storiotese è stato al teatro dell'elfo nomino la musica come si incrociano le cose poi e poi vabbè tutti gli attori che sono passati all'elfo allora nel bene e nel male da Paolo Rossi dico Barbareschi ognuno giudichi da sé chi è il bene chi è il male c'erano altri due che erano grandi a Milano e facevano teatro Dario Foa e Franca Rame ho avuto la sfortuna però un problema che non posso dire pubblicamente dovevo fare ero stato chiamato per fare l'Estrevare de Soldat a cui va partecipato Paolo Rossi e alcuni altri miei compagni della scuola civica d'arte drammatica Paolo Grassi che ho frequentato solo il primo anno e per un filo mi avevano già chiamato dovevo fare per un motivo però poi diciamo che per un periodo sono andate le prove sue che facevano in via Tertulliano il teatro adesso non mi ricordo come si chiamasse ai tempi quando abbiamo molto più recentemente quando abbiamo fatto Coppia Aperta quasi spalancata ero andato a casa di Dario avevo conosciuto Dario Fo e Franca Rame perché nel 2005 2004 2006 se non ricordo abbiamo fatto una serata dedicata a Piazza Fontana al teatro del Verme stracolmo con Dario Fo e Franca Rame che partecipavano a questa cosa iniziativa della provincia di Milano e teatro la cooperativa e poi quando abbiamo fatto Coppia Aperta quasi spalancata ero andato a casa sua una lunga bella chiacchierata fra l'altro e chiesi ma possiamo cambiare un po' il testo perché ci sarebbero delle cose se non cambiate il testo non avete capito niente di quello che ho scritto io è certo che non puoi mettere i nomi di allora i riferimenti culturali storici politici di attualità di vita quotidiana di allora dovete cambiarlo e quindi Coppia Aperta che saranno ormai già una decina d'anni più per andato in scena per andato in scena a Monda teatro pienissimo al Carcano pienissimo con Alessandro Raffaiella e Valerio Buongiorno ed è una macchina e dal punto di vista comico per me avevo studiato i tempi della resurrezione di Lazzaro il pezzo del mistero buffo un mio amico lo aveva presentato anche un mio amico triestino lo aveva presentato con me per l'esame da missione e quella è una lezione di teatro meravigliosa io quando faccio di piccoli corsi con i ragazzi una delle cose che insegno è quel passaggio che il protagonista dice Marco 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 lo conosco ecco per dire i tempi i ritmi la capacità di un maestro e a fianco anche la scena dei re magi devo dire che non è niente male anche la scena dei re magi quando arriva che canta e a fianco aveva la franca rame che comunque faceva parte del teatro di tradizione capocomicato insomma questo è quello che c'era prima un altro maestro per me anche se non ho dovuto lavorare molto ho fatto anche lui una sera sempre su Piazza Fontana sempre dal vermo l'anno dopo gli annacci gli annacci gli annacci gli annacci Gaber non ho avuto il piacere di lavorarci insieme stare insieme al palco però gli annacci erano un altro colosso colosso questo è quello che c'era prima adesso cosa c'è a Milano? adesso ma per me non è cambiato molto nel senso che no bello 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 no perché il teatro in qualche maniera parlare con nostalgia di quello che fu è facile parlare con nostalgia di quello che è a volte più difficile no ma io direi che comunque Milano ha conservato qualcosa di prezioso che deriva dall'idea base che Streller e Grassi avevano posto come base del teatro cioè come si pensa per una casa per la vita quotidiana l'elettricità la sanità i mezzi pubblici l'acqua e l'elettricità per il bene fisico la sopravvivenza fisica così per la salvaguardia mentale intellettuale ci vuole il teatro insieme alla pittura insieme all'arte insieme ai libri insieme alla cultura la musica il balletto ecco l'idea pubblico come si dà l'acqua così si dà anche il teatro e allora qual è il suo rapporto con la città di Milano? il mio rapporto passa attraverso il teatro legato a questi concetti e quindi quel concetto di teatro pubblico che serve alla gente significa tradotto cerchiamo di essere veloci perché potremmo stare qui tre ore io ci sto volentieri andati se vuoi il concetto viene trasferito tradotto semplicemente nel fatto che a me piace quel concetto di teatro per cui una persona che va in una sala è una battuta dello spettacolo gli ricorda qualcosa che vive quotidianamente nel lavoro nello studio nella famiglia e allo stesso tempo quando è nella famiglia nello studio nello lavoro gli viene in mente qualche battuta che ha sentito il teatro cioè ci deve essere questo cortocircuito il teatro la dramaturgia gli autori sono un altro che secondo me una spugna che filtrano quello che arriva alla realtà e lo portano in teatro e poi lo ri e diventa un luogo di dibattito di confronto io sono molto legato al teatro popolare nel senso di mi piace che il pubblico si diverta e si commuova ma attraverso la riflessione teatro politico immagino l'ho già la risposta ma proviamo il suo luogo del cuore a Milano qual è? ma guarda forse il luogo del cuore di Milano sarà un teatro o no? sì aspetta vediamo se ho spento la suoneria sì meno male ma guarda proprio ieri siamo stati al piccolo teatro di Milano e il luogo del cuore secondo me è proprio il piccolo teatro per quale motivo? non solo perché lì ho imparato di questo mestiere meraviglioso perché parliamoci chiaro noi facciamo un mestiere meraviglioso ma perché la storia di quel teatro sono molto legato e sono legato dal punto di vista che lo dico per chi non lo sa ma dovrebbero tutti i cittadini milanesi saperlo l'operazione fatta là dentro è valutata molto di più in Europa per esempio di quanto noi lo valutiamo a volte quello è stata la sede della regione autonoma Ettore Muti durante il periodo della guerra era un luogo di tortura uno dei peggiori d'Italia chiaro? mentre si facevano i film si proiettavano i film sotto perché il piccolo teatro è sotto nei quelli che sono i camerini sono diventati poi i camerini del piccolo teatro di Milano si torturava l'elenco delle torture non le farò le so a memoria perché facciamo uno spettacolo di Mai Morti ma non le faccio perché è proprio la galleria dell'horror ecco che noi che si sia riuscito a trasformare quel luogo di dolore di torture guardate faccio solo un esempio uno a casa fa così con l'ago e dice l'ago era l'ordine del giorno come i fiammiferi e scottature sotto i piedi ecco per non parlare di capezza eccetera eccetera essere riusciti strellere grassi trasformare quel luogo di terrore con un'opera diciamo così di bonifica in un luogo di cultura di arte la parola bonifica lui faceva le bonifiche quindi utilizzare anche questa cosa comprimete tu fai una battuta però è un'opera di bonifica proprio dal punto di vista di un luogo di terrore di sangue di tortura di morte di famiglie distrutte di sparizioni in un luogo di confronto di dibattito di goldoni moliere cultura musica è una delle operazioni secondo me più importanti che siano state fatte in Italia ma se ne sa poco perché però se ce lo diciamo poco se lo ricordiamo poco c'è una targa fuori lo raccontiamo poco c'è una targa fuori hanno fatto recentemente Davide Nia uno spettacolo su questo secondo me andrebbe messo maggiormente in rilievo e io ho avuto la fortuna di intervistare quello che era il proiezionista di allora del cinema a Broletto voleva restare anonimo non so neanche se sia ancora vivo e una cosa che mi aveva colpito era il fatto che lui fra una proiezione e l'altra andava fuori a fumare se ancora un balconcino fuori e raccoglieva i messaggi scritti con un lapis una matita con un pezzo di mattone o carbone sulle cartine delle sigarette sul biglietto del tram su un pezzo di sacco di carta rubato lì dei arrestati degli antifascisti che prima di passare sulla terrazza dalla parte dove erano gli uffici della Ettore Muti dopo la terrazza arrivavano i camerini quando passavano per la terrazza buttavano questi bigliettini che lui questo proiezionista raccoglieva e lo portava alle famiglie perché ai tempi non è che ti arrestavano ti dicevano tu sei arrestato sei a San Vittore fra un mese avrei l'interrogazione del tribunale no la tecnica era sparire la famiglia restava nell'incovo di non sapere dove era finito il familiare che veniva preso le due di notte a volte con 7, 12, 13 persone vestite di nero per una donna quindi ecco per questo è il luogo del mio cuore storie che sembrano così lontane invece parliamo veramente dell'altro ieri della nostra città e ahimè che a volte succedono ancora posso ricordare se tutti il CPR di Milano come luogo ad esempio di oblio di molti che si perdono nella notte diciamo all'interno di questi luoghi a questo punto che cosa invece non sopporta di Milano beh forse questa cosa qui della città da bere ancora così ancora questa città da bere non riusciamo a togliercela di dosso no ma se io penso che il centro storico ha perso quell'animo popolare che era determinato agli studenti degli anziani le piccole botteghe il bar frequentato è venuto a vivere a Milano a vivere in via Roletto adesso sarebbe andato a venire forse al Giambellino se andava bene eh sì se va bene se va bene per esempio io mi ricordo che andavo a giocare buttavo via quei pochi soldi che erano nel 69 attenzione io sono arrivato a Milano due o tre mesi prima di Piazza Fontana mi ricordo benissimo i commenti sul tram della strage però comunque in via Rovello noi praticavamo a zona Garibaldi eccetera c'era la trattoria di via Brera delle sorelle Pirovini dove insomma succedeva che tu non avevi soldi mangiavi ordinavi un piatto di pasta asciutta mangiavi sei michette perché il pane era gratis e se a volte non avevi il banco i soldi il banco ma di allora era io sono venuto per l'istituto d'arte non per Brera però abitavo nell'ambito di Brera con artisti eccetera facevi un ritratto un disegno e tornavi a casa e lei era una delle tre sorelle o tutte le tre sorelle avevi fatto il ritratto era contenta c'è un modo di vivere pochi soldi che avevamo li perdevamo puntualmente alla pelota milanese alla pelota basca che era in via Palermo dove l'importante non era capire il giocatore più forte della serata ma quello della combi giusta perché tu vedevi questo che giocavo a Malti e poi l'ultima partita e quindi i soldi fioccavano era un modo di vivere cioè si stava in strada fino alle 4 del mattino ecco quella Milano lì non c'è più non è una stagia è il mondo che va avanti così era una stagia da 76 ad oggi però quante Milano ha visto? quali e quante ne ha visto? no diciamo che il passaggio più più sì gli anni 80-90 si può dire che il berlusconismo non mi è piaciuto tanto ecco ecco io questa Milano che è diventata tutta concentrata sugli affari non è proprio del tutto così perché l'arte la musica la scala il picco c'è ancora molta cosa però questa via degli affari in qualche maniera che però è importante perché è una città che vive su questo è il Danè il Danè il Danè forse avrei preferito ma questo a livello nazionale a livello nazionale io sarei più contento che le mie nipotine o i bambini in genere a scuola studiassero o facessero più musica balletto disegno queste cose qua perché noi siamo un popolo un po' portato a queste cose quindi e poi io mi ludo non è così perché Hitler era un pittore fallito però io mi ludo che chi fa un po' di musica un po' di teatro un po' di danza un po' di 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 scrittura eccetera poi la fin fine sarà anche un cittadino migliore mi ludo spesso parla di politica la fa tutti gli effetti con i suoi spettacoli fate politica tutti gli effetti sì non è una colpa no anzi è un merito visto che molti non la fanno anzi proprio per questo le chiedo no poi quando uno dice no a me non mi piace la politica aglia aglia di fido un po' di fido un po' credo che non esista teatrante che non faccia politica perché insomma è un atto politico di quelli importanti anzi il problema è che poi la politica invece spesso venirei fa cose che non dovrebbe fare che cosa fa secondo la politica che non dovrebbe fare eh forse quello che dicevo prima cioè prestare un po' più di attenzione quelle che sono le cose più importanti della vita e le cose più importanti della vita sono quelle che in qualche maniera fanno bene lo spirito la mente dal punto di vista culturale artistico e anche della natura perché non parliamo della natura quello che ho capito la parte stiamo devastando tutto ecco la politica non ha tenuto conto è vero che noi siamo il paese che ha avuto il boom economico più importante al mondo negli anni 60-70 in proporzione l'Italia ha avuto un salto superiore dal punto di vista economico al Giappone all'America eccetera che comunque erano paesi già avviati la canzone di Tenko quando diceva dai carri dai campi agli aerei nel cielo saltare in un giorno saltare dieci anni in un giorno solo con intuizione artistica meravigliosa descriveva perfettamente quello che è stato il passaggio del boom economico in Italia cioè dal niente dai campi il ministero della pesca era uno dei più importanti allora oggi non esiste più niente questo salto ha sbalestrato un po' Pasolini ha identificato benissimo questo salto più che culturale antropologico del popolo italiano e questo salto qui qualcosa abbiamo perso per strada uno la salute di molti nostri concittadini padri e nonni che nelle fabbriche perché lì sulla loro pelle è stato fatto il boom economico gente che andava a lavorare al mattino con la paura del luogo di lavoro le fabbriche erano inferni autentici inferni gli annaci alla fine della canzone Vincenzina cosa dice Vincenzina vuol bene alla fabbrica perché la sa che la vita in fabbrica non c'è e se c'è cos'è un inferno io mi ricordo di alcuni operai perché abbiamo scritto dei testi sugli operai di Sesto che andavano prima di andare in fabbrica io ho avuto uno zio di mio padre che lavorava nell'arsenale quella che è la feriera di Trieste stessa roba c'era un posto che si chiamava La Speranza Circo La Speranza Sesto e prima che gli operai andassero in fabbrica c'erano decine decine di lo chiamavano grigio verde bianco verde che era la grappa con la menta grappa con la menta grappa perché questi dovevano darsi una botta di coraggio per entrare in fabbrica con la menta perché se bevevano solo la grappa senza la menta come entrava il caporeparto sentiva l'odore magari se era diciamo così di umore inverso lo rimandavano a casa ma l'alcol era fondamentale prima per entrare e poi per venire fuori dopo una giornata come quella quindi il boom italiano è stato costruito altro fenomeno fondamentale del passaggio ne siamo stati la prima generazione che grazie al sacrificio dei nostri genitori dei nostri nonni abbiamo avuto un'istruzione istruzione di base non è un concetto da poco questo non è un concetto da poco quindi l'Italia ha avuto dei passaggi che però forse qualche cosa di questi passaggi si è dimenticato torniamo un attimo al teatro della cooperativa nel 2001 fonda il teatro della cooperativa lei era già un autore di un certo livello aveva già fatto le sue belle situazioni i suoi bei lavori li aveva fatti poteva magari aspirare a un teatro più prestigioso andare a chissà dove a fare io aspiravo ma non mi lo dava infatti come c'è finito laggiù a Niguarda per combinazione ma che poi combinazione non è faccio lo spettacolo sulla risiera che è stato multipremiato premio Riccione eccetera eccetera a Roma arriva un professore della sapienza uno che era stato deportato a 14 anni vede lo spettacolo e mi abbraccia dice hai fatto una roba cosa stai facendo non mi conosceva e dico sto facendo questa roba qua facciamo una lunga checcherata lui conosceva Milano Mino Vianello mi fa piacere citarlo perché è una persona splendida mi dice ma io come posso aiutarti non lo so e lui collaborava con una rivista che si chiamava il ponte argomenti umani in tempi c'era Pietro Margheri il caporedattore dove dove ci lavorava anche un certo Turati adesso non mi ricordo il nome che abitava Niguarda questo Mino Vianello a Roma mi dice ti presento queste persone qua a Milano che mi pubblicano sulla rivista un'intervista e un testo e il testo della risiera questo Turati che abitava Niguarda mi invita il 24 aprile perché Niguarda festeggia la liberazione il giorno prima perché in sorgio il 24 aprile non il 25 ancora oggi è il 24 grande festa il 25 non è che vanno al mare però due giorni di festa sono due giorni e c'era un incontro sulle donne partigiane e arrivo in questa sala e lì non mi ricordo tramite chi come cosa e dico ma cosa fate qui qualche cabarettata qualche spettacolo dialettale qualche spettacolo epifania carnevale per i bambini e basta perché insomma è una sala ma perché vorresti gestirla non so se poi sono stato io a chiedermela da resta si chiamava Poletti e vivo ancora Giovanni Poletti era il presidente e mi dice ma adesso mi ricordo se lui mi ha proposto vuoi gestirla o io gliel'ho chiesto sta di fatto che dopo un po' io mi sono trovato dentro i primi anni e quindi era come dire questa combinazione non è una combinazione perché perché mi guarda un suo percorso si chiama Teatro Cooperativa perché c'è una cooperativa storica del 1894 che ha un percorso simile a quelle che sono le storie che piacciono a me di solidarietà di emancipazione della classe operaia di lotte di sindacalismo di sinistra eccetera e quindi sono quasi come sono come un bambino sulla culla la corrente mi ha portato lì e il primo anno e mezzo l'abbiamo fatto così diciamo teatro in maniera molto molto volontaria senza tante regole e poi invece siamo costituiti come associazione culturale e mi fa piacere notare e far capire che una parte del patrimonio del bilancio della cooperativa adesso si chiama abitare società cooperativa prima si chiamava edificatrice una parte dei suoi soldi come le dedica agli ascensori ai passamani alle cantine alle cose di così così e dedica anche alla cultura ecco ci sono mille altre attività che fanno con l'associazione per i ragazzi che hanno problematiche il circo culturale le cose per gli anziani che non riescono a muoversi durante il covid ecco che ha una storia di solidarietà e quindi sono conflitto è meglio così che non è andato il teatro bello in centro no io devo dire la verità avrei preferito il piccolo però non credo che me lo avrebbero dato insomma non è così facile arrivare al piccolo c'è sempre tempo però mi sa perché visto che sono mancanato stati non si ferma da quanto abbiamo capito siamo il piccolo comunque ospitati questi giorni con uno spettacolo su un'aufraghi senza volto che nasce dal libro della Cristina Cattaneo un medico forense che si dedica fa di tutto per cercare di come per le tragedie di Linate come per le tragedie di Torre Gemelle di fare di tutto per l'impossibile anche anzi per identificare i corpi delle persone che sono morte così vorrebbe spererebbe si sta dando da fare per fare in modo che quelli che sono i morti le vittime dei naufragi vengano riconosciuti e se viene un parente perché se è terribile che ti muore il figlio il papà il nipote eccetera è terribile è una tragedia ma forse a volte è ancora peggiore quella sorta di incubo perenne che rimane una persona che ha la quasi certezza che il figlio sia morto lì ma non avendo la certezza rimane con la speranza fino all'ultimo dei suoi giorni il teatro non muore mai però diciamo insomma a volte non è che c'è proprio una bella cera chi è che deve prendersene cura chi dovrebbe la sicura del teatro beh diciamo la concorrenza è spietata nel senso che fino a 50 anni fa c'era solo il cinema prima non c'era neanche il cinema insomma quindi il teatro era appunto il riferimento per tutti le concorrenze sono spietate però per esempio rispetto al covid in cui siamo stati tutti quanti un po' massacrati però è successo questo fenomeno che se il cinema ne ha risentito perché i nuovi mezzi in qualche maniera si sono posti come alternativa Netflix televisione grandi eccetera il teatro lo fai lì o lo vivi lì o non ci sono ospitare in salotto è un po' complicato effettivamente sì sì sento comune no forse boh ma c'è un'attenzione Milano devo dire che è una situazione particolare perché quel concetto di teatro pubblico ha significato poi anche in qualche maniera del piccolo teatro ha significato poi Dario Fo Gaber i Annacci i Gufi c'è un teatro molto popolare e quindi questa attenzione da parte delle amministrazioni tutte sia di destra che di sinistra per la cultura per il teatro finora non è mancata con iniziative come il videoteatro come i teatri convenzionati come tante cose forse a livello regionale in questo momento non è che si muovano tanto rispetto al Lazio per esempio si dovrebbe fare di più torno a ripetere io so per esperienza perché ne ho fatti tanti di corsi di laboratori che bambini i ragazzi aderiscono ai corsi di teatro con un entusiasmo che è qualcosa di a di là che lo faccio io lo faccio un altro io ho visto di corsi anche di teatro di ricerca di movimento teatro danza che non è il mio genere eppure i ragazzi sono attratti sono 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 entusiasti di farlo stanno insieme chiarissimo si rapportano si confrontano Renato io ti ringrazio tantissimo davvero per questa chiacchierata spero di non aver dimenticato qualcuno delle persone che sono state importanti nel mio percorso chiediamo scusa nel caso e li mettiamo li aggiungiamo nel testo dopo tutti i collaboratori che hanno lavorato con me in questi anni immagino immagino ma intanto abbiamo capito che questa è la prima di un'intervista non ti fermerai mai ci ritroveremo alla prossima stagione alle prossime avventure alle prossime idee così che nascono appunto magari anche solo in un spostamento in auto come facevi poco fa come mi dicevi perfetto signore e signori Renato Sarti arrivederci grazie mia chiesa milanesi grazie mille di averci seguito alla prossima a presto grazie mille 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 grazie mille